Anche quest'anno a Val Bondione un ricco calendario di eventi invernali che accontenteranno gli appassionati della nostra località. Ovviamente Val Bondione è neve, quindi in primo luogo molti eventi sulle piste, poi anche per gli appassionati di sci d'alpinismo, di sci di fondo e per chi volesse anche la pista di rally su ghiaccio in zona d'ossi. Oltre a questi ricorderemo anche una serie di eventi legati alla cultura e dedicati ai più piccoli, quindi davvero un ricco calendario di eventi. Partirei innanzitutto con il ricordare due serate legate alla montagna che si terranno giovedì 27 dicembre e domenica 30 dicembre. Ospiteremo due grandi appassionati della montagna, giovedì 27 dicembre ospiteremo Alessio Pezzotta che presenterà i suoi libri relativi alle Alpe Eorobie con una serie di filmati e diapositive. Domenica 30 dicembre invece una serata dedicata alla flora e la fauna locale con il dottor Mirko Bonacorsi, gestore dell'osservatorio florofaunistico di Maslana. Altro evento molto importante ormai tradizione a Val Bondione è il Presepio Vivente che si terrà venerdì 28 e sabato 29 dicembre. La rappresentazione a cura degli amici del Presepio giunge quest'anno alla sua sesta edizione e vede la presenza di oltre 150 comparse che appunto animeranno la frazione di Fiume Nero con una serie di richiami e messeri antichi e ovviamente con la natività. Altro evento di punta sarà sicuramente l'ultimo dell'anno nella frazione di Lizzola a partire dalle ore 18 con la collaborazione della scuola sci Lizzola ci sarà una fiaccolata lungo le piste da sci e a seguire il lancio delle lanterne luminose nel cielo di Lizzola. Poi a partire dalle 23 musica e tanto divertimento per tutti con il conto alla rovescia aspettando il 2013. A partire da gennaio ci saranno poi tre concerti organizzati dal comune di Val Bondione nelle tre parrocchie quindi Fiume Nero, Val Bondione e Lizzola in tre date diverse. A seguire vorrei citare sabato 5 gennaio il cinquantesimo anniversario della scuola sci Lizzola. La scuola sci giunge appunto a questo importante draguardo e quindi per tutto il pomeriggio i maestri si esibiranno in una serie di sciate spettacolari e ci sarà poi una merenda per tutti. Da ultimo vi segnalo sabato 26 e domenica 27 gennaio la gara di Coppa Italia, campionati italiani assoluti di sprint di sci di fondo presso la pista Casa Corti di Val Bondione. Il consorzio turistico Val Bondione ovviamente ringrazia l'amministrazione comunale di Val Bondione e Lizzola Snow & Fan per la collaborazione e per l'organizzazione di tutti gli eventi. Vi ricordo che per consultare il nostro calendario potrete andare nel sito www.turismovalbondione.it oppure contattare l'ufficio turistico all'email info-turismovalbondione.it o al numero di telefono 0346 44 66 C.